Quattro inediti episodi per ampliare e diversificare la nostra visione sulla caccia al cinghiale. Nessun'altra specie di interesse venatorio è capace di suscitare dei sentimenti così forti e contrastanti. Storia, leggende e miti di un selvatico tanto amato quanto discusso. Cinghiali sotto una diversa ottica. Dal 26 agosto ogni sabato alle 21 in esclusiva su Caccia. Canale 235. Grazie a tutti.